Aumentano i test processati e ritornano i nuovi casi di Covid-19 nella nostra regione. Se nella giornata di ieri si era registrato uno zero con 801 tamponi, nel bollettino dierno si registrano 33 nuovi casi identificati su 4.379 test, 2.525 molecolari, 1.854 antigenici, con un tasso di positività dello 0,75%. I nuovi casi sono compresi tra 7 e 79 anni e portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75.195. Continuano a non registrarsi i decessi da circa due settimane e mezzo e il totale in questo caso resta fermo a 2.512. Poiché rispetto a ieri c'è un aumento dei dimessi guariti di 43 unità, scende di 10 il numero degli attualmente positivi in Abruzzo, che si assesta a 932. Lieve calo, meno 1, tra i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, sono 28, resta sempre un solo paziente ricoverato in terapia intensiva, dato invariato con nessun nuovo ingresso, mentre sono 903 i positivi in isolamento domiciliare con sorveglianza delle ASL, meno 9 rispetto a ieri. Questa volta la provincia dove si registrano più casi è quella di Pescara, 16. Tutti questi contagiati sono giovani, hanno meno di 30 anni e sono tutte persone rientrate nei giorni scorsi dalle vacanze trascorse in paesi quali Spagna, Grecia e Malta. Accusati i primi sintomi, i giovani sono stati sottoposti a tampone, che ha dato esito positivo. I campioni nei prossimi giorni verranno sequenziati, ma il sospetto, visto l'attuale contesto epidemiologico, è che i contagi siano riconducibili alla variante Delta. Dei 16 nuovi casi emersi nel Pescarese, 13 riguardano pazienti residenti a Pescara. Per il Pescarese si tratta di uno dei dati più alti degli ultimi mesi, mentre per il capoluogo adriatico è in assoluto il più elevato dalla metà di aprile ad oggi. Tornando ai casi odierni, 10 si riferiscono alla provincia di Chieti, 2 a testa per quelle di Teramo e l'Aquila. Invariati i casi di fuori regione, mentre per altri 3 sono in corso verifiche sulla provenienza. Intanto all'aeroporto d'Abruzzo è iniziata l'attività di testing sui passeggeri in arrivo da Malta, Spagna e Regno Unito, in base a quanto previsto dall'ordinanza firmata ieri dal governatore Marco Marsilio, che ha imposto l'esecuzione del tampone al momento dello sbarco nello scalo. Una settantina i test eseguiti in giornata.